Queste le dichiarazioni del sindaco Adamo Coppola in merito alla disciplina del disco orario in via Pio Decimo e via Risorgimento. I commercianti di via Pio Decimo e via Risorgimento hanno fatto richiesta di implementare l'area di sosta a disco orario al fine di agevolare un maggiore flusso di auto negli stalli di sosta. Questo stato di cose però non poteva andare a scapito dei residenti. Questi possono infatti fare richiesta al comando di polizia municipale per avere l'esonero dell'esposizione del disco orario. Il costo è pari a 26 euro comprensivo di marca da bollo da 16 euro che non va al comune ma è purtroppo obbligatoria. La richiesta si fa una volta e vale quattro anni. Voglio infine tranquillizzare, conclude Coppola, per quanto concerne la questione verbali, in particolare nel caso in cui dei cittadini residenti abbiano avuto una sanzione, una volta ottenuta la certificazione, avendone diritto, il comando su richiesta procederà all'annullamento del verbale in autotutela. Il modulo di autorizzazione può essere riperito attraverso il sito internet del comune di Agropoli oppure presso il comando di polizia municipale.